alla tappa mifaf alle siepi c'è arnaldo bologni lui ha portato sicuramente qui essendo a tappa mifaf dei puledri che puledri sono che ho portato due puledri che mi manca ancora qualche qualifica ho portato un quattro anni che figlio di fortuna forever e canon è un callo che ha veramente della grande qualità e può diventare un calo interessante poi un calo di sei anni è un figlio di chopin è un calo che un po tardivo in quello che gli hanno potuto dare il tempo di imparare è un calo che ha mezzi abbastanza qualità però essendo un calo tardivo bisogna dargli il tempo per capire se può venire un calo utile c'è un cavallo che ti piace particolarmente ma dei miei dei tuoi dei giovani dei miei giovani sono uno dei sei anni che già qualificato che tu loren che è un figlio di renatus e di toulon che è un calo che veramente fa la differenza un cavallo tra l'altro che di cui si trova in giro il seme già si ha già qualche prodotto qualche puledro li segui questi puledri che nascono più che li seguo io e mio figlio che tiene dietro tutta questa situazione di puledri parliamo dell'altro dell'altro aspetto dell'altro arnaldo bologna che conosciamo ct responsabile della squadra i veterani sono pronti i nostri veterani per andare agli europei beh hanno fatto 15 giorni fa il campionato italiano devo dire che è stato un ottimo campionato italiano mi ha dato delle idee abbastanza chiare per dei binomi da poter utilizzare anche perché i percorsi che ha fatto qui giovanni racca ha fatto veramente degli ottimi percorsi e non percorsi da sottovalutare perciò chi ha preso le medaglie le ha prese meritandosele e poi ci sono degli altri dietro che sono veramente pronti per poter penso fare un campionato d'europa d'arezzo una cosa nata per gioco però sta diventando importante tanti cavalieri che magari hanno smesso avevano smesso e hanno ripreso proprio per magari per partecipare questi a queste selezioni o anche lavorare insieme a te con si è iniziata così questa situazione in italia dei veterani però devo dire che ha preso molto piede perché tra le telefonate che mi fanno mi mandano dei messaggini perciò anche tante persone si riavvicinano per il fatto che questa è una passione una passione anche che se uno smette se ha la possibilità di poter cominciare è un grande incentivo incentivo per loro che fanno delle categorie di un'altezza che possono tranquillamente effettuarle in più anche per i comitati organizzatori perché è un settore che io ritengo che quest'altro anno ci saranno dei numeri molto alti chi è la nostra punta di diamante beh non voglio fare la punta di diamante ci sono veramente penso quei 5 6 che voglio ottenere per il campionato d'europa che sono tutti a un buon livello e già con una buona esperienza per cui la squadra è mezza fatta ma la squadra è già fatta però la feci dà la possibilità di poter dare dieci nomi e allora è giusto darli perché c'è ancora quasi un mese perciò se succede qualcosa posso avere un ricambio velocemente ecco perfetto grazie mille arnaldo per rivederci